Voltiamo pagina, nostro ospite questa sera è Domenico De Maio, direttore dell'Agenzia Nazionale per i Giovani. Buonasera e benvenuto. Buonasera a voi. Dunque, lei nel pomeriggio è stato presso la sede dell'Associazione Analisa Durante, vittima innocente di Camorra di Forcella a Napoli, ha presentato il progetto Angeli del Cittadino. Di cosa si tratta? Siamo stati con i ragazzi, protagonisti del progetto nell'ambito del Corpo Europeo di Solidarietà, un programma europeo che grazie ai volontari dell'Associazione Analisa Durante arriva nella profondità della nostra città e del paese a Forcella. I ragazzi hanno sviluppato un progetto di comunità, partito prima dell'emergenza sanitaria, ma è stato emozionante vedere come nel corso di questi mesi i ragazzi si sono riorganizzati, hanno appunto riorganizzato le attività per poter aiutare la comunità. Le mascherine che abbiamo consegnato oggi è stato un simbolo un po' del loro impegno che sono state consegnate ai commercianti della zona, ma nell'ambito di questi mesi hanno anche sviluppato attività di sostegno a bambini attraverso attività online. Ed è appunto la dimostrazione di come i giovani, anche in controtendenza con una certa narrazione, invece in questo periodo hanno dato una grande dimostrazione di impegno e di maturità. Ecco, i giovani in questo periodo di lockdown hanno sofferto particolarmente, vero? Assolutamente, stando a casa e rinunciando a tantissimo della loro quotidianità. Noi come Agenzia Nazionale per i Giovani abbiamo osservato quanto i diversi progetti, seppur con un cambio di programma, hanno risettato le proprie attività. E quindi è venuto fuori uno scenario di solidarietà digitale attraverso corsi online, attraverso spese solidali, attraverso anche la consegna di mascherine come oggi. L'associazione Analisa Durante fa un lavoro straordinario. Per noi è stato veramente emozionante riuscire a coniugare la concretezza dell'impegno di comunità che svolge sul territorio con dei programmi europei. E soprattutto l'impegno reciproco, quello di poter dare continuità a queste iniziative grazie al Corpo Europeo di Solidarietà. Ecco, abbiamo visto insomma le immagini della consegna di 200 mascherine ai commercianti di Forcella, le prime di un blocco, no? Vero? Ce ne saranno anche altre che saranno consegnate. Sì, sì, ma sono state consegnate oggi, ma il lavoro è costante. E soprattutto la mascherina è stato anche un pretesto per entrare in contatto con tante realtà, perché poi l'associazione è attiva sul territorio e rappresenta anche un connettore di tante realtà, anche culturali, tanti ragazzi attivi anche nel preservare il patrimonio artistico e culturale, anche in attesa di una ripartenza del turismo. Quindi sì, ci saranno sicuramente altre mascherine da consegnare e soprattutto l'impegno dei ragazzi andrà avanti. Benissimo, grazie a Domenico De Maio per essere stato con noi e buona serata. Grazie a voi.